Oggi, oggi voglio essere le tue orecchie dietro le quinte di questa Messina e dirti un po' ciò che ben o male tutti i messinesi pensano di vero, gran parte dei messinesi, e li trovo per le classi sociali, soffermando soprattutto sull'elite del messinesico. Bene, Carlo Levi, in Cristo si è fermato a tempo, parla di oratoria contadina, e non me ne voglio le contadine, ma non la cito a caso, proprio perché gran parte dell'elite dei messinesi ti danno del paesano, del contadino che sempre è stato delegato nella sua fiume di misa, mentre grandi, volimici e amministratori, eredi disegnati al trono e non, dicono che questo sindaco non ha un'esperienza tale da amministrare la tercesima città di Italia, mentre magari dimenticano ciò che in precedenza è stato fatto. Ma al contempo ricordo un diversente evento da lo sindaco, una sua chicca, una registrazione audio, trasmessa a Piazza del Popolo, in piena campagna elettorale, dove emerge tutta la preoccupazione di quei plasonati politici con pedigria innesso, in quanto, cito testualmente, che non me ne voglia qualcuno, il tuo predecessore, non essendo all'altezza del ruolo, si poteva tranquillamente veicolare a proprio precedente, mentre questo calcicolone di Catero De Luca no, 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 perché Catero De Luca ha esperienza politica amministrativa? Perché questo paesanonto non è uno studio, è un aspide politico, con lui non si può trattare agevolmente. Ricordo a tutti che sempre questo paesanonto ha rinunciato alla poltrona d'oro d'eccellenza, quella della nostra assemblea siciliana per intenderci, quella da 15.000 euro almeno, percependo una miseria in questo comune, percependo un'indennità da miseria, da poltrona d'oro d'oro, ebbene sfiderei chiunque a rinunciare all'indennità del genere. Cretino! Dopo che ho vinto ho rinuncio a 15.000 euro per 3.000 euro, ma sei un cretino! proprio impecissimo! Cretino e imbecile! Bravo! Cretino e imbecile! Bravo! Cretino e imbecile! Bravo! Cretino e imbecile! Cretino e imbecile! Ah, bravo! Il senso di lei è tra i politici, non è suono, non è suono, è suono! E che l'ottoruncio... ...e che sono rinunciato alla poltrona d'eccellenza, ovvero quella della nostra assemblea siciliana per sedere su uno scandalo, stavo per dire, davvero spinoso, quello del nostro comune. Dopodiché, e finisco con le citazioni, proprio me, devo citare per onestà intellettuale Umberto Ero, i social network danno diritto di parola alle giovani imbecili. La smetta, caro sindaco, di realizzare la realtà e l'operato di questo civico consesso, perché, come di recente ha visto, i social danno il dono, amplificando la realtà con una cassa mediatica imponente. Abbassiamo i doni, sindaco, soltanto questo, mi chiedevo. Dopodiché, mi rivolgo a qualche consigliere. Collega, non farvi influenzare da qualche commento negativo, o da qualche letto mancato, da qualche pseudo-elettore. Entriamo nel metodo delle singole lette di vita. Questa è la vita reale. Non contribuiamo ad affossare la nostra amata Messina, come qualcuno è passata qua, proprio adesso che il dato è tratto, proprio adesso che il cambiamento si respira in città. ATM ha messo in limitazione, dopo che i tali dei tuoi bilanci non erano mai stati approvati. AMAN, che ha scocchiato tante situazioni contorte con l'uso. Messina Socialzini, che ha tolto l'introito ai tuoi. ARISMER, che finalmente è riuscita ad attingere dalla legge regionale del 90. In conclusione, caro sindaco, un neo me lo consente di trovare. E questo sta tutto nella categoria del mercatario. Da lei a volte è passata, per qualche indecibile, per qualche idiota. Questa categoria non deve essere questa in giro. Pertanto, qui successivamente entrono nel meglio, perché la trattazione di una denuncia così importante non può essere rinviata al 20 dicembre del 2020. Dopodiché, e sotto questo punto di vista, si aspetti da parte mia, le basi che hanno. Per il resto, nulla a questi, caro sindaco. Il sì non è un sì preconcetto. Entrerò nel merito di ogni singola attenzione. Grazie Presidente e grazie per l'attenzione. Signor Presidente, signor sindaco e signori colleghi, io non mi rispero per i metodi portodossi e politicamente a limiti della collettezza del sindaco. Io non mi dispero per la sua comunicazione eccessiva, aggressiva e propropatoria. Trovo fastidioso ed offensivo, ma non mi dispero, del fatto che il sindaco privo di maggioranza adotti strategie di forte pressione nei confronti di noi consiglieri. Trovo fondamentale che il sindaco sia persona capace, competente e molto determinata. Trovo fondamentale che diverse azioni amministrative siano state completamente avviate, con determinazione. Riequilibrio finanziario, raccolta differenziale, risanamento, servizi sociali, servizio di distribuzione idrica, riorganizzazione della macchina amministrativa, smart city, trasporto pubblico, decoro e rete urbano, taglio agli spredi, agli abusi, contrasto all'evasione, piano di valorizzazione del patrimonio immobiliare comunale. Trovo ragionevole valutare l'azione del sindaco attraverso i risultati, concedendogli il tempo necessario per raggiungerli. trovo folle interrompere la cura robusta di una città che va morendo. Trovo convincente avere un sindaco forte, controllato da un consiglio comunale altrettanto forte, collaborativo, costruttivo, propositivo, ma non allineato. Trovo questa proposta di delibera una sua precisa assunzione di responsabilità ed un invito ad un'accelerazione dell'azione amministrativa. Non considero questa proposta di delibera una cieca adesione a qualunque contenuto lei, signor sindaco, proposta, rispetto al quale avrò la libertà di esaminare, valutare, decidere, delibera dopo delibera, atto dopo atto. Trovo irragionevole tornare a votare senza un'alternativa al sindaco di alto profilo, capace, competente, rappresentativa e autorevole. Trovo irragionevole tornare a votare con i partiti e i movimenti in pieno caos, privi di unità interna con spaccature dolorose. Trovo azzardato e preoccupante rischiare con nuove elezioni di avere il sindaco di ruta con un consiglio comunale a lui del tutto allineato. Trovo folle tornare a votare e far perdere altro tempo alla città che va morendo. Trovo fondamentale che lei, signor sindaco, sappia riconoscere questo consiglio come una risorsa e non come un avversario da demolire e leggo proprio in questo senso la sua proposta programmatica. Trovo fondamentale che lei, signor sindaco, sappia ascoltare questo consiglio e quei consiglieri che oggi intendono fare perseguire il suo ammino amministrativo. Trovo stimolante la sfida che lei, signor sindaco, ha voluto lanciare con questa proposta di delibera e la voglio accettare. Per tutte le ragioni coesposto, dichiaro il mio voto favorevole alla proposta di delibera, qualora la stessa sia messa in votazione. Le valutazioni che sostengono la mia dichiarazione di voto mi portano ben lontano dal gruppo a cui appartengo e mi impongono per coerenza a dichiarare la mia uscita dal gruppo del momento 5 Stelle e la mia adesione al gruppo Miovi Pignoli la mia uscita dal gruppo del Movimento 5 Stelle e la mia adesione al gruppo misto da uomo libero. Grazie. In questo salò telegrafico o già che in vero ciò che avevamo e l'abbiamo da chiederle per questo aspetto l'ha già fatto il decano dei gruppi che fanno riferimento a loro regole l'unice Genovese. Sì, anche Genovese voglio dire che rinunciò alla poltrona di deputato regionale quando vinse le elezioni. Quando vinse le elezioni da sindaco. Si collega perché rinunciò perché rinunciò Ah, ho capito. Si, rivolgami con le elezioni. Questa è storia. Ad ogni modo vorrei dire ma era una doverosa una doverosa precisazione che il collega calabro è fatta avvisce. Voglio dire quindi che noi come gruppo Ah, ho un'altra signor sindaco un'altra un'altra erogna. Noi ovviamente in base alla pregiudiziale proposta dai nostri gruppi è depositata dal collega Paccanino e per la quale attendiamo risposta certa e positiva ma in sostanza ritenendo l'atto irricevibile e quindi per noi non votabile le abbiamo chiesto di trasformarlo in semplice comunicazione al Consiglio di ciò che sarà l'attività protrappatica per cui lei chiede una velocizzazione un cambio di passo sotto questo profilo ma noi non possiamo accettare l'atto di fede politica vera e propria cui lei fa riferimento con quest'atto perché di atto politico si tratta è chiaro che quindi sotto questo profilo signor Sindaco ci possiamo prendere in giro se diciamo che è irricevibile per noi non è nemmeno emendabile e quindi non possiamo entrare nel merito di ciò che è irricevibile certo io un emendamento l'avrei fatto in tema di che ne so magari per il tipo di guardare le casse e fare che ne so l'istituzione di un fondo per la copia delle chiavi del gruppo misto l'ho lasciato che era tre e ora invece vola e probabilmente dovremmo chiedere anche al presidente Scuria di trovarci un appartamento perché una stanza non basta più questo era l'intento del cambio di passo e questo devo darle meglio che ci è riuscito bravo complimenti devo dire che in ordine al cambio di passo quindi tornando alla questione voglio dirle che noi se trasforma l'atto in semplice comunicazione al consiglio ne prendiamo altri voglio fare questo voglio fare quello voglio fare quell'altro e saremo sempre al fianco della città di Messina così come abbiamo fatto in tutto questo tempo perché le ricordo che noi come gruppi vicini appunto all'area ferrovese quindi al centro-destra siamo stati sempre leali perché abbiamo fatto abbiamo garantito non soltanto la presenza in aula quando questa veniva a mancare ma soprattutto abbiamo garantito che la maggior parte delle delibere importanti per la città abbiano avuto un esito favorevole quindi con il lavoro che si è fatto nell'interesse della città e mi riferisco in particolare alle strutturazioni finanziarie dei conti economici del comune di Messina è un passo che mi consenta non avrebbe potuto fare senza i consiglieri appartenenti a quest'area purtroppo lei ci ha attaccato dicendo che noi vogliamo mettere le mani sulla città in realtà noi vorremmo che lei le mani sulla città le tenesse ma con il dovuto controllo non abbiamo queste mire non ne vediamo la diciamo l'esigenza diciamo che quindi sotto anche questo profilo non si può essere d'accordo con lei il nostro appoggio se lei fa una cosa del genere cioè ritira l'atto noi gli lanciamo quest'ova se lei ti dira l'atto siamo ben lieti di poter partecipare alla ristrutturazione dei conti finanziari nel sotto del Santa Messina e quindi uscire dal piano di riequilibrio finanziario perché lei questi risultati li ha ottenuti grazie a noi e noi siamo onorati di aver contribuito a questo io non accetto che qualcun altro dica ah voi avete votato il Santa Messina come se fosse una cosa negativa perché loro volevano di stesto beh se loro oggi siedono qua devono anche grazie a noi e soprattutto non accetto critiche per la libera scelta avuta per votare quel Santa Messina da parte di chi in fondo sperava che io votassi per loro cioè loro non votavano però sorvello ti raccomando questo è il senso della democrazia della libertà della bella politica che piace a tutti e perché le cose ce le dobbiamo dire tornando invece al discorso e vado a terminare signor Presidente Sindaco io io lo dico come direbbero a Parigi che me lo deve consentire io che lei si diventa non ci grido manco subito questo si è in grado perché è troppo forte a fondare è troppo forte la responsabilità ecco diciamo così di lasciare una città in mano di un commissario ma che non è detto che duri veramente soltanto un mese in ogni caso se lo farà io credo che il suo potrebbe essere un atto di impeto perché come come dice chi lo conosce bene entrare nella sua testa vuol dire entrare in una foresta e perdersi quindi può essere fuori che lo farà ma io non ci credo quanto subito devo dire però che sappia che noi ci siamo noi siamo pronti e non temiamo le subito perché per noi l'interesse l'interesse più importante è quello della città di far funzionare le cose di far funzionare i servizi e su questo passo noi ci eravamo e ci siamo quindi a lei sta la scelta e l'eventuale grave responsabilità di abbandonare la città ma sappia che noi siamo pronti e difenderemo con i denti gli interessi di Messina siamo stati eletti per questo e fino alla fine onoreremo il nostro mandato con l'unità